Si chiamava Silvano Ellero, il 74enne triestino trovato senza vita ieri attorno a mezzogiorno nel canale dell'Isert a Monfalcone. Il corpo recuperato dai sommozzatori dei Vigi del Fuoco e dalla Guardia Costiera a seguito delle ricerche partite nella notte fra lunedì e martedì poco dopo mezzanotte, dopo la denuncia di scomparsa della moglie. La donna attendeva il marito che non si era presentato a casa a fine giornata. Ancora al vaglio le ipotesi del decesso con gli investigatori della Polizia di Stato che stanno indagando un malore oppure un incidente. Silvano era uscito dalla sua abitazione in via Bonomea in tarda mattinata e si era diretto nella città dei cantieri per effettuare dei lavori di manutenzione sulla propria imbarcazione in vista della barcolana. Forse l'uomo è scivolato dal natante ormeggiato nella marina. Le ricerche dei Vigi del Fuoco, con la squadra del distaccamento di Monfalcone e i sommozzatori del nucleo soccorso subacqueo acquatico regionale del comando di Trieste, si erano concentrate soprattutto nella zona del canale est-ovest all'Isert. Per ore lo specchio d'acqua era stato scandagliato con il side scan sonar ed erano state eseguite anche alcune immersioni sotto le imbarcazioni. A mezzogiorno di ieri il ritrovamento del cadavere nelle acque dell'Isert con le conseguenti operazioni di recupero del personale della guardia costiera che stava pattugliando l'aria. Silvano Ellero, ex elettricista dell'Alcatel, era in pensione ma con una vita molto attiva ed era pieno di interessi, tra questi proprio la passione della vela. Anche quest'anno si stava preparando a vivere il periodo della barcolana proprio rimettendo a nuovo la sua imbarcazione. Il 74enne lascia la moglie e il figlio.